Reier Venezia, Grissin Bon, Reggio Emilia. È una sfida infinita, che volge ora da una parte e ora dall'altra le sorti dell'entusiasmante testa a testa tra la seconda e la terza classificata della stagione regolare del massimo campionato di basket nella semifinale play-off. Senza il contributo di uomini come Peric, Res e Goss, Carlo Recalcati si affida a Vigiano e Nelson, ma la maggiore voglia di vincere dei ragazzi di Max Menetti ha fatto la differenza. Quasi mai in partita la Reier ha accusato ritardi nel punteggio fino a 20 lunghezze, soffrendo la difesa emiliana e rialzando raramente la testa. Giocare ogni due giorni è durissima e le squadre accusano qualche colpo a vuoto. Domenica di nuovo al Tagliercio Mestrino, dove è indispensabile vincere. Occorre stringere i denti senza peccare di presunzione. La finale sembra alla portata degli Oro Granata, chiamati a cancellare la pesante sconfitta di venerdì sera al Palabigi e a coronare una stagione comunque positiva con un piazzamento di prestigio.